Aprire facilmente per la transizione di Trieste che va per il punto del pari o addirittura del sorpasso proprio con Juss che si gira, stavolta l'appoggio di mano sinistra è facile facile che va ad aprire per Objubek lo scarico proprio per campo reale che si gira non riesce a trovare lo scarico inizialmente, poi trova Juss che con l'aiuto le mani su questa partita appena entrata in campo Enrico Casu subito con la tripla del 15 a 6 Juss ricezione, poi appoggio al vetro, facile facile con Palazzi che non può Objubek a trovare adesso la difesa zona schierata di Sassari per la ricezione di Juss, c'è spazio in angolo ma Juss preferisce andare da solo, subendo fallo e trovando anche il canestro con un coast to coast raggiunge direttamente il lato opposto del campo ancora Eva ad attaccare con sicurezza il fondo, poi lo scarico con fallo con tante maglie rosse che alla fine hanno la meglio, può correre un po' Trieste che va a cercare ancora una volta Juss, qui bravissimo a mantenere vivo solamente con una mano questo pallone leggermente lungo ed appoggiare il tredicesimo punto della sua partita aveva portato frutto inizialmente, molto meno dopo desocco per Juss che si alza da tre punti, va molto lungo rimbalzone di Morgut che lotta, anzi di dov'era che lotta c'è Morgut che si era aperto, Juss si riprende la conclusione da tre punti personalità nella ricezione ma anche nel passaggio da ricevere Baru poi dall'altra parte c'è Trieste, rifiuta anche Desocupo che poi attacca il centro deragli un po' con l'arresto, poi Juss che si muove tra le linee della difesa, la formazione di Zucca e Carlini pick and roll con Eva che va ad aprire su Juss che non pensa mai due volte a prendersi la conclusione, sta dominando incontrastatamente questa partita Marco Juss e se Trieste, altro recupero di Eva, altra corsa per Juss che fa saltare Barua poi si appoggia al suo corpo per fare 24 il contropiede con Rolli che riapre per la tripla di Comar che sbatte sul ferro altro rimbalzo di Camporeale che poi va da Juss che si perde un attimino qui nel palleggio poteva tirare subito, poi alza la parabola con la mano sinistra prende una conclusione Camporeale con il contropiede per il più facile degli appoggi e qui sicuramente ci scuserà la gufata, poi Juss di Matteo Rolli Juss a ricevere, si gira, spalla a canestro, cerca un scarico, viene riservito facilmente da Rolli, grande palla, la possibilità a Sassare adesso addirittura di allungare con Barua che attacca la difesa sicura e buona da parte di Juss attenzione al contropiede adesso con Oblio perché c'è Juss proprio a tagliare verso il centro, si gira, si protegge con i gomiti e appoggia il 78 pari a 1 e 11 dalla fine